Upas, puntate al 19 gennaio, Mariela si vendica di Guido, Roberto fa la guerra a Raffaele. Nelle nuove puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 15 al 19 gennaio, Mariela decide di vendicarsi di Guido, che l'ha punita sul lavoro. Tuttavia, Roberto Ferri divenne sempre più ostile nei confronti di Raffaele e dichiarò guerra a Raffaele. Mariela si vendica di Guido quando Raffaele arriva in Polonia con il padre, viene a sapere che Ida ha venduto suo figlio. Serena e Filippo però notano che Irene mostra disagio. I due genitori però potrebbero non riuscire a capire se si tratti di una questione legata all'adolescenza o di qualcosa di più serio. Mariela ha intenzione di vendicarsi di Guido per averla punita sul lavoro. Diego, invece, rimarrà molto deluso dall'atteggiamento di Aida. Tuttavia, Raffaele consiglia alle giovani donne di pensarci due volte prima di prendere decisioni avventate. Tuttavia, Roberto e Marina decidono di fare la proposta ad Aida. Guido ha intenzione di pubblicare delle scuse sui social, ma difficilmente avrà l'effetto desiderato. Roberto dichiara guerra a Raffaele e nel frattempo Viola non riesce a riconnettersi con il figlio Antonio, ed Eugenio è sempre più attratto da Lucia. Diego e Raffaele, però, diventano estremamente ostili nei confronti dei coniugi ferri dopo aver scoperto le loro azioni a danno di Aida. Di ritorno dalla Polonia, il giovane Giordano cerca di fare i conti con quanto accaduto alla sua amante. Intanto Raffaele sembra diventare sempre più freddo nei confronti di Marina e Roberto, reo di aver manipolato l'adozione del piccolo Tommaso. Nunzio ha organizzato una serata pizza al Caffè Vulcano, dove avrà una sorpresa. In questo momento, alcuni clienti potrebbero sentirsi nervosi. Fortunatamente, Nunzio riesce a riportare l'ordine nel suo cliente quando i guai sono appena iniziati. Nel frattempo Viola si chiede se debba accettare l'offerta di lavoro. Alla fine Roberto finisce per entrare in guerra con Raffaele, mentre Ida si sente sempre più esclusa dalla vita di suo figlio. Il piano di Marina e Roberto fallisce Diego e Aida sono una delle nuove coppie nate in un posto al sole. Il fratello di Viola la aiuta a trovare lavoro e le diventa pericolosamente vicino. L'intimità che ha portato Diego a sviluppare sentimenti per Aida. Di conseguenza, i due furono coinvolti sentimentalmente. Marina e Roberto non gradirono questa notizia, temendo che la verità su Tommaso venisse alla luce. E vennero a prendere Ida da Napoli con il pretesto di trascorrere le vacanze di Natale in Polonia. A questo punto i ferri fornirono dei soldi agli zii di Aida per comprare un piccolo Tommaso ed evitare il ritorno a Napoli. Un piano che non si è concretizzato quando Aida ha chiamato Diego.